Andiamo, corri, corri! Buonasera, chiedo scusa. Salve, buonasera. Una piccola domanda. Sono impegnaccio da affare, signore, non posso rispondere alle domande. Ma guarda, io sono facendo il mio lavoro. Un piccolo sondaggio. Sì, ma che cosa è questa cosa qua? Un piccolo sondaggio per conto di telerompo. Telerompo. Allora, quando lì si trova sull'autobus e incontra una persona anziana, cede il suo posto? No, signore, io non posso cedere il mio posto perché non è possibile. Vabbè, forse mi sono espressa male, le chiedo scusa. Ecco, quando lei si trova sull'autobus e incontra una persona con delle disabilità motorie o molto palesemente anziana, lei naturalmente cede il suo posto? Signore, il mio posto non lo posso cedere, capito? Ho sito pronto. Sì, chiudo. Scusi, ma io glielo devo proprio dire, ma lei è veramente una persona maleducata? Sì, non è capito niente, io sono l'autista del pullman, non si capisce niente. E' questa, dov'è? Se lei rompa la roba qua che dava. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Grazie.